Il tema del brutto, dell'informe e del difforme attraversa senza soluzione di continuità tutta l'esperienza estetica del Novecento. La poetica del monstruoso e del fantastico di devervazione gotico-rinascimentale subisce una radicalizzazione estrema all'interno dell'estetica pittorica del movimento informale e la ritroviamo anche applicata al tema del ritratto. Jean Dubuffet è stato un pittore, scultore e incisore francese, meglio conosciuto per il suo sviluppo di art brut, arte grezza. In opere come questa che vi presento, Dubuffet realizza immagini crude, ideografiche, incise su una superficie ruvida costituita da materiali come catrane, ghiaia, ceneri e sabbie legate con vernice e colla. I suoi disegni e dipinti ci risultano infantili e ossessivi e il loro aspetto incompiuto ha suscitato molte polemiche. In questo ritratto dello scrittore André d'Hotel, Jean Dubuffet sottolinea i tratti del viso, il segno delle rughe e la barriera dei denti. Inciso nella materia pittorica come un graffito segnato su un muro, questo ritratto assomiglia a una caricatura feroce e cupamente umoristica. L'artista evita ogni tentativo di somiglianza trasformando questa figura in un'effigie primitiva. Questo tenero e al contempo feroce ritratto dello scrittore d'Hotel risponde magistralmente all'obiettivo di Dubuffet di catturare la sua affascinazione per i balletti di rughe e teatrini di smorfi e contorsioni che animano alcuni volti. In Duance d'Abricot la materia incisa alla maniera dei graffiti rivela un delicato rosa arancio per i contorni della testa e del busto e un marrone per i lineamenti. I cerchi concentrici degli occhi e degli occhiali, i denti come una griglia e le rughe come linee che attraversano la fronte trasformano la figura in un'effigie primitiva e minacciosa. Alcuni studiosi hanno sottolineato il carattere anti-umanista di questi ritratti e ciò che li rende così efficaci. È su questa violenza imposta all'immaginazione, sullo sforzo richiesto da un'identificazione ostacolata in tutti i modi, che il pittore si basa per ottenere un effetto più efficace del realizzare un ritratto ben definito. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!